E intanto ti sei comodo, come se fossi al mare, guarda come se ci fosse un ombrellone ma l'ombrellone non c'è, infatti fa un caldo boia Soprattutto per te però, più per te che per me perché hai sudato 25 giri per portarti a casa un secondo posto in campionato anche Sì, siamo venuti qua puntando la vittoria perché non eravamo messi male come punteggi Anche se dopo le qualifiche devo dire che per il terzo posto avrei fatto la firma perché partendo il quattordicesimo non era una gran cosa diciamo Potevamo fare un po' meglio in qualifica però, per come è partito il weekend alla fine neanche male In finale sei andato più forte alla fine che nelle fasi centrali Sì, abbiamo visto i tempi, hai girato veramente forte nell'ultima parte, ti sei accorto di questo? No, sinceramente pensavo l'opposto Il contrario Mi sentivo a posto i primi giri, forse perché con Simo andavo un po' di più, poi ho perso un po' Quindi il mio riferimento era lui, quindi quando ho visto che perdevo da lui pensavo di essere calato tanto Effettivamente facevo anche un po' fatica, come saltavo molto, facevo fatica a fare un giro pulito senza errori Quindi pensavo di essere calato tanto, però se tu mi dici così sarà vero Me lo sei inventato Però sì, come ti ho detto prima, pensavo peggio per come era partita perché veramente eravamo mezzo a una strada fino a venerdì sera Quindi prendiamola così, bicchiere mezzo pieno dai Congratulazioni Grazie Grazie